abbiamo iniziato ciao mauro ciao elena ciao 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 ben arrivati bentornati bentornato anche a te prego raccontaci allora vi elenco subito allora i punti così non ci sono problemi causa esoterica di alcuni problemi fisici allora miopia tensione muscolare agli arti inferiori ovvero mi accorgo in certi momenti soprattutto magari di relax di avere di non avere tipo i glutei e i quadricipiti non sono cioè non li sento molto li sento ancora in tensione sono ancora contratti ecco come se fossero ancora contratti quindi allora ci penso e allora in quel modo dopo riescono a rilassarsi se no involontariamente me li trovo a volte me li trovo ancora in contrazione dopodiché contrazioni muscolare involontari cioè mi accorgo che ci sono come dei movimenti di alcune fasce muscolari che si come non so mai non ho mai ben capito se siano i nervi o se siano proprio i muscoli che come se saltasse come questo effetto qua per descriverlo come dura poco poco tempo qualche seconda dopo spariscono tu fai sport no no e bevi tanto faccio delle camminate magari ma non non sport o agonistico amatoriale no nemmeno per non mi alleno ecco diciamo così ma devi a sufficienza sali minerali di ogni tanto prendo ben degli integratori ma ok si no si ha dopo acufeni per cui nel senso uno praticamente ce l'ho è come se ce l'avessi sempre come sottofondo al destro al destro esatto di solito al destro e magari durante la giornata nella quotidianità non lo sento però sempre se sono in un momento magari di relax o di tranquillità lo sento e a volte hanno anche dei suoni diversi ad esempio mi è capitato qualche giorno fa una settimana fa nel giro di dieci secondi di sentire tre suoni diversi due dall'orecchio destra e uno dall'orecchio sinistro di che tipo diciamo diciamo metallici diciamo come dire così no 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 è come se fosse un fischio un fischio diciamo fischio metallico qualcosa del genere una cosa del genere dopodiché disturbi intestinali emorroidi e qua vabbè ho messo tra virgolette divisione cerebrale perché una volta guardavo questi video ASMR nel senso e mi sono accorto che quando ti creano questi tingles come li chiamano loro queste specie di soletti chi alla testa o in altre parti del corpo diciamo che mi prende solo la parte occipitale per bello mentre la parte frontale la parte davanti è come se fosse morta diciamo cioè lì non succede niente magari è solo una questione fisica perché può essere che non prenda tutta la testa può essere che prenda altre parti del corpo perché insomma un po avevo cercato un po avevo cercato di capire però ecco questa era questa specie di curiosità ecco che mi sono perso però cosa sono i video ASMR non mi ricordo francamente allora io sono dei video di persone che praticamente dicono che abbia che hanno una funzione di relax di aiutare le persone ad addormentarsi insomma hanno queste cose qui ce ne sono di migliaia di tipi e praticamente attraverso dei microfoni particolari particolarmente ti parlano in maniera come si può dire soffice tranquilla quasi sottovoce e fanno anche dei rumori tipo può essere fare dello scratching usare le unghie su qualcosa di gommoso su qualcosa di ferro di legno oppure magari fanno suoni come si possono dire liquidi ma sono li trovi su youtube trovi su youtube ce ne sono una marea ce ne sono una marea ma infatti adesso non li guardo più perché dopo un po' stufano fondamentalmente perfetto e quando hai visto cioè quando l'hai sentito questi video ti è sembrato di essere sottoposto a una divisione cerebrale sì sì divisione tra virgolette perché li sento dal solo in una parte della testa una parte diciamo occipitale quindi la parte retro la parte davanti continuo continuo la parte davanti non sento niente perfetto secondo punto sono aspetti mentali vibrazionali come io definisco allora scarsa energia maschile io l'ho messa in relazione con mio padre con mio padre perché mio padre insomma era una persona da un certo punto di vista cioè violenta perché insomma grossi litigi con mia madre fin da piccoli persona unaffettiva probabilmente era anche malato di mente probabilmente quasi sicuramente vabbè ma questo non è la non è la sua sessione e questo quindi mi ha portato ad accorgermi di certe mancanze diciamo così quella di una volontà alterna per cui faccio una cosa e dopo la smetto e dopo la ricomincio e dopo la smetto e è un sempre stare in difesa anche cioè non reagire se proprio ma non agire è come 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 mi viene da dire no praticamente non sono un carro armato per cui non agisco ma però sono come in un castello che deve che deve subire un assedio però ho sempre questa convinzione ho sempre questa convinzione che qualunque cosa ti succeda ti succeda perché hai le spalle abbastanza larghe per sopportarle ok questo comporta anche appunto il da non dire va bene cioè riesco a sopportarlo e magari lo tengo distante ma non reagisco o meglio non reagisco non reagisco per modificare per cambiare per risolvere magari il problema perché tanto riesco a sopportarlo ok volontà alta allenante questo discorso di iniziare una cosa poi magari senza un perché senza un motivo smetterla poi magari dico ok aspetta che la riprendo e dopo ecco che la rismetto e tutto è sempre uno stop and go dopodiché difficoltà a lasciarmi andare ad aprirmi per cui questo mi sembra abbastanza chiaro e poi ho scritto solo il mio peggior nemico nel senso che non ho fiducia in me non ho amore per me e anche se questo so che è una cosa forte da un certo punto di vista me ne frego di me di me stesso me ne frego per cui in che senso cioè fa un esempio perché dici che ne frego che magari dico che ne so io voglio fare quella cosa lì però ma no dai non ha importanza va bene così va bene allo stesso cioè non c'è questo questa cosa di portarla avanti anche se magari senti che ne hai il bisogno perché ma sì dai non mi do tanta importanza non cambia niente anche se non la faccio va bene così perché tanto le cose le posso sempre supportare in un certo senso e quindi questo comporta anche della indecisione oppure agire magari con poca decisione anche ecco e poi fantasticherie nel senso che magari succedono delle cose e su queste cose ci faccio un film e vabbè di solito questo film poi finisce che taglio le mani a qualcuno che dopo questo aspetto dopo ritorna in un altro punto ok dopo il fantasticheria perché perché immagino magari fatto da qualcosa che può essere oggi mi è successo che un tipo mi ha attraversato alla strada e di colpo così non l'ho visto e abbiamo rischiato di scontrarci di scontrarci ed ecco che magari incomincio a inventarmi una discussione un coso e tutto si risolve con io che taglio le mani al tipo perché così ok dopo tre sì allora tre quattro li ho diciamo in un senso li ho accorpati perché riguardano i sogni perché faccio sogni diciamo un po' li divido li ho divisi alcuni li definisco metafisici nel senso perché sono ambientato sono sono dei sogni che non hanno diciamo così un ambiente uno sfondo per cui magari mi è capitato di che so io di avere un sogno in cui c'è una macchina che mi che modifica il dna per dirne una oppure di combattere contro delle macchine però tutte queste tutte queste cose hanno questa caratteristica che sono in un ambiente diciamo così senza uno sfondo come se fossero quei quadri di da lì dove c'è tutta la scena e tutto intorno non c'è come niente i orologi esatto è lo sfondo che è praticamente un l'oreo c'è veramente poco avevo in mente anche quelli di De Chirico perché mi scrivi il sogno prima di scendere che significa di scendere nella matrix sì questo è quello come l'avevo interpretato io nel senso che è un sogno in cui mi ritrovo con alcune persone alcune le saluto perché le conosco dico ah finalmente così ci rivediamo no e dopo vedo un'altra persona che sempre sono mie amiche persone che ho conosciuto e mi scende anche tu e lei mi dice di no e allora io ci rimango un po' male l'accompagno diciamo così e praticamente vedo che lei scende attraverso diciamo così un buco nero da un buco nero e invece io scendo da un'altra parte dove c'è questo uomo dai capelli bianchi pelato e dove ci sono tutte queste persone vedo saranno state centinaia di persone come se fossimo su una spiaggia prima di partire e praticamente ci da ci prende in braccio io vedo che prende in braccio e ci dà da dire qualcosa da un cucchiaino che io questo qua me l'ho immaginato come l'acqua lete l'acqua del fiume lete non quella dell'acqua minerale pubblicità progresso e lei non fare pubblicità mi raccomando l'acqua del fiume lete che è quello dell'oblio del bucatorio di dante mi sembra quello di dante però per i greci era quello che bevevano le anime per reincarnarsi per dimenticare per dimenticare prima di reincarnarsi per quello che ho detto prima di scendere perché io addirittura avevo pensato che fosse appunto per via di quel buco nero come se fosse tra primo e secondo universo tra primo e secondo universo l'ho immaginato così e proprio dopo vabbè mi c'era fatto tutto un discorso sulla dimenticanza sul sul riscoprire quindi il contrario del filete che vuol dire dimenticare invece noi dobbiamo ricordare chi siamo in realtà ma magari non ricordassimo niente ma magari non scendessimo nemmeno ah vabbè certo quindi c'è questo sogno combattimento contro macchine che sembra una roba di matrix sì però vabbè la cosa però in questo sogno mi arriva un pensiero che non è mio questo pensiero che mi dice bellerofonte eh perché bella domanda cioè io mi sono guardato bellerofonte il personaggio mitologico che cavalca il cavallo Pegaso che sconfigge la chimera ok e che alla fine della sua vita va diciamo così a sfidare gli dèi però perde diciamo così viene viene sconfitto viene da Zeus che gli manda tipo una un'ape che fa pungere il cavallo così il cavallo si impizzarisce lui cade giù e tipo o muore o rimane tramortito ferito e diventa un vagabondo a seconda del mito che uno va a leggere e invece il cavallo mi diventa il portatore delle sette di Zeus delle sette sette ma tu sei un conoscitore perché le sapevo queste cose ma me le sono dimenticate sei uno che ripassa l'epica il mito si mi interessano però nel senso le leggo però questa di bellerofonte me la sono andata a cercare dopo che mi era arrivata questa cosa a testa macchine DNA sì praticamente appunto mi trovo davanti questa persona tutta vestita bene elegante con i baffetti e il pizzetto un po' un po' spagnoleggiante un po' spagnolo un po' come si può dire da alla d'artagnana tipo tipo molto sottili qui e sottile qui tutto vestito di azzurro che mi dice ah guarda quelle sono diciamo così brevemente delle macchine che trasformano il DNA in un modo in un altro e praticamente spera che il disegno dei simboli e praticamente mi diceva che non so se si riesce a vedere un po' più lontano sarà un po' più così più vicino un'ombra l'altra è lambda non è la lambda e io l'ho interpretato come la lettera vav ah ok vav sì la lettera che la uv ebraica e questa invece è un simbolo che ho cercato di una specie di lambda con una cosa sotto con un trattino sotto omega non dovrebbe essere omega no sì scusa omega con un trattino sotto ho cercato di darmi delle spiegazioni ma non saprei dirti quale c'era quella giusta e dopo così posso dire ah quella della lezione in aula mi ritrovo in aula sono io bambino ma con le mie fattezze di adesso ci sono altre persone c'è anche un maestro diciamo così e un insegnante c'è un'altra un'altra persona che sta lì a guardare e si sta lì a discutere praticamente uno di questi qui mi dice ah ma guarda che che tecnologie che ci danno insomma cioè noi possiamo fare questo con quello che ci danno e a certo punto suo amico diciamo chiamiamolo amico si alza e sembra quasi sclerare e c'ha tipo uno sguardo tutto un po' quasi indemoniato ma quasi perso da matto la tipa che sta lì a guardare e dice ah ma guarda e pensa ma guarda che reazione che reazione interessante e dopodiché mi compare tutta una 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 scritta in inglese tutta una scritta in inglese una cosa che riesco a comprendere perché non riesco a leggere praticamente come ci sono cinque tunnel due tunnel mi dice il primo e il secondo sopra c'è scritto transhuman e il terzo il quarto e il quinto c'è scritto human come se fossero delle linee temporali le prime due come c'è scritto sopra transhuman e le ultime tre c'è scritto human ecco ok ma la leonessa invece praticamente mi trovo in questa specie di grotta c'è una persona che mi dice una donna mi dice guarda mi dispiace che tu debba fare questo con questa donna io ci tocchiamo per mano e proprio fisicamente lo sento questo contatto perché veramente entro dentro questa statua di leonessa e dopo diventa tutto marroncino e dico mi sa che ho fatto una gran bella cazzata ok poterete violenze 4 vai dimmi scusa no punto 4 sì ah sì altri questi sono sempre altri sogni e dopo forse sono anche un po' troppi mi sto rendendo conto eh sono un po' tanti eh sì davvero vi rendete conto un po' anche voi eh c'è questo mancato attraversamento del ponte dove sono io che insieme ad altri dobbiamo attraversare questo cioè da attraversare questo ponte io non lo faccio perché ho paura perché è come se fosse questo ponte su un canyon per cui c'ho una doppia c'ho una doppia paura la doppia paura che un fiume enorme come un profondo come un canyon possa portarmi via ma anche che possa cadere giù nel vuoto e dopo c'è il sogno di un sogno che ho definito incarnazione cioè quindi mi trovo diciamo sotto un albero e sono con con altre persone c'è una tipa che mi fa guarda che devi unire i piedi io unisco i piedi mi sembra anche le mani e metto la punta della lingua sul palato mi sembra nel sogno questo e praticamente diventa nero e mi compare un foglio esatto forse sarà un contratto sarà il contratto di quella vita quindi io mi ritrovo questo bambino cioè io vedo sono tantissimi sogni direi questo lo lasciamo stare prete violenze camerini matrimonio camerini che vuol dire canarini scusa canarini scusa allora bene a ricordo è colpa di elena sempre sempre messo tanti soldi e sempre se hai una multa dalla elena davvero la straccia devi pagarla ovviamente no c'è la vita di cedolino con dimostra che le pagate canarini due parole dai che iniziamo sì no allora piuttosto allora sai cosa ti scelgo quello del prete sai proprio perché praticamente metto una moneta in una porta apro questa porta vado a finire un solaio questo solaio è pieno di oggetti religiosi cattolici io incomincio a spaccarli tutti perché mi sembra la scelta più giusta da fare a un certo punto mi arriva questa persona che le intriugo come un prete che viene lì e io l'accuso di diciamo così di violenza nei miei confronti a questo punto arrivano altre due persone che diciamo sono i suoi aiutanti con il quale incominciamo un combattimento però io stando sempre in difesa in questo senso di difesa praticamente mi metto sopra una specie di cubo e con questi cerco di tenerli lontano con una frusta però mi accorgo che non è questa la soluzione giusta con questo non risolvo niente quindi cosa faccio dico beh allora aspetta sai che faccio metto tutto in un buco nero e quindi dicendo questo mi sveglio ok questo lo voglio raccontare perché prima la sera prima mentre cercavo di capire perché io avevo queste diciamo queste forme di chiamiamole violenza nel tagliare le mani quello che quando si ritornava prima cosa mi è successo praticamente col piede sinistro urto il quaderno dove scrivo ogni tanto mi ricordo di scrivere i sogni e io penso ecco che forse qua c'è qualcosa di importante magari oggi c'è stanotte sogno qualcosa di importante ed è venuto fuori questo sogno per cui non so se magari queste cose ci sono delle violenze da parte di qualcuno o in questa vita che io non ricordo o magari in altre vite su cui possono comunque agire in questo momento su questa vita qua cioè questo io me lo sono me lo sono interpretato così il quinto punto io non l'ho capito il quinto punto non l'ho capito sono dei momenti che ho vissuto allora uno è il déjà rêve non so come si pronuncia in francese cioè il già sognato déjà rêvé déjà rêvé scusa praticamente ci sono dei momenti in cui mi dico eh ma questo ero già sognato semplicemente momenti c'è molto molto semplici magari passo da un passo su una strada e non succedendo in particolare solo quel momento ecco e questo mi sembra di averlo già sognato poi ci sono degli attacchi notturni che ho definito così cioè mi accorgo che durante la notte sento come se mi schiacciassero la testa o la schiena e e quindi allora io mi sveglio faccio sempre un po' fatica a svegliarmi però mi sveglio sempre quindi dopo tutto sparisce dopo tutto alcune volte una volta mi è successo di avervi probabilmente avevo visto una specie di figura sull'uscio della porta della camera e dopo ultimamente mi è successo che era abbastanza un di solito sono molto sono molto forti sono molto forti e una volta addirittura mi è sembrato che qualcuno mi stesse dando un calcio qua sul costato vabbè Darshan attacchi notturni iniziamo 22 minuti di punti sono più che sufficienti diciamo i disincarnati sono tuo padre il nonno materno sì solo un ultimo punto che è importante secondo me praticamente nel dormiveglia mi è arrivata questa informazione mi dice non sei ancora pronto ad affrontare quello che può ti succedere sei pronto ad affrontare le conseguenze di quando sei stato mangiato vivo in un rituale negli USA e devo dire che è sta roba questa è una voce non era una voce che mi è arrivata in un momento di dormiveglia ok fiamma bambino interiore li vuoi chiamare tipo no esatto sì la mia fiamma interiore li voglio chiamare nel cinema iniziamo ho disattivato il tuo microfono mauro passa un pochettino se poi buona visione se sicuramente già connessa ma ti accompagno contando da 5 a 154 3 2 1 di ministro vedi se lo vedo e lui e mi appare come se cioè mi appare mentre io vedo di schiena e lui è seduto su una sedia e sta giocando a dei videogiochi sul computer questo già il gioco che sta giocando e di direi fantasia dove c'è il protagonista che ha una spada e deve combattere contro dei degli animali mostri che l'autorizzazione se ok vibrazione 16 miliardi consapevolezza 125 gsp 39 61 vite precedenti 1987 cervello 9.3 ok entità eteriche vediamole allora odino come mai proprio di no questa volta che ci fa l'onore di presentarsi c'è praticamente per tutti c'è per tutti colori che hanno identità eteriche ma perché l'hai visto il solito era l'ho visto è collegato a un piccolo è collegato a un falconiforme ma piccolo e ho visto direttamente lui quello che mi dice come se venisse chiamato spesso in causa da mauro nel senso lui dice così la dice spesso chiamato in causa ma io direi che diciamo con questa cosa con questa scusa tra virgolette ne approfitta per cercare un po di raccontarci la ma chiudono se c'è lo vedo io lo vedo spesso vedendosi al videogioco e sentendo tutti tutti i sogni e tutte le cose che visualizza mauro vedo che c'è questa interferenza di odino che è molto presente il fatto che mauro se ne accorga senza esserne consapevole fa sì che in questo momento di no cerchi di farci credere che viene chiamato da mauro ok un'altra c'è una mantide è un grigio vabbè anche il giorno vediamolo neanche più perché le maestranze analizzare nelle titteri che un grigio è come essere molto interessati alle tecniche di chirurgia avanzata a cuore aperto che è andare a considerare quelli che mantengono puliti i pavimenti alle 11 di sera della sala operatoria si va bene ma chi se ne frega no cioè ai fini della ricerca e dell'evoluzione delle tecniche di operazione chirurgica il bravissimo inserviente che tiene pulita e generalizzata la sala operatoria alle 11 di sera non è molto importante cioè fa un lavoro che non è non è necessario per capire quello che facciamo e di l ce ne sono due questi dl si connettono delle entità mentali si allora ce n'è uno di livello 31 di livello 5 ok quella di livello 3 quella che fa è quella che riguarda la sua bassa autostima il basso interesse verso se stesso vedo proprio che crea dei pensieri come diceva lui prima quei pensieri che che gli dicono nella testa ma no cosa lo fai fare tanto non cambia tanto tutto male tanto tu puoi sopportare tanto tu non sei all'altezza e tutte queste cose qua e l'altra allora allora l'entità mentale di livello 5 la vedo ti spiego cosa fa stavo cercando un termine specifico ma no fa sì che lui rimanga dentro a un a un guscio a un guscio di vita di vita di tutti i giorni è come se lo tenesse dentro una tecca dove fa sì che lui rimanga nel nel fare le cose con se stesso cioè vedo tutto il mondo fuori tutto il mondo che si muove fuori ok lui e questa enorme cupola di vetro dove lui è dentro che vede fuori ma non può interagire perché dentro la cupola quindi vedo che a un certo punto poi si mette a fare le cose dentro la cupola perché tanto fuori non può interagire ok ecco lo tiene isolato sì me impianti c'è un disco messo in verticale in mezzo alla testa anche serve serve a rallentare un po' la comunicazione tra un mischio e l'altro ok quindi i due aspetti delle due parti cerebrali come se agisce e come se agissero separatamente invece che mettere insieme diciamo la concretezza e la creatività e fare la cosa con tutte e due gli aspetti insieme quest'impianto fa sì che agisco una o l'altra e la creatività è spesso tenuta diciamo a bada tenendo le vibrazioni basse poi c'è un impianto sul sulla cresta iliaca di destra in cima proprio è come se fosse un lo usano come se fosse un localizzatore di dove mauro va attraverso questo questo impianto valutano come come le vibrazioni reagiscono a seconda delle situazioni e grazie a questo quando vogliono quando hanno necessità creano delle situazioni all'esterno ok nella matrix che a mauro provocano la riduzione delle vibrazioni e quindi poi loro possono prendere l'energia ok basta se non vedo volte quelli che c'è sono stati tolti da della cosa si va bene cause esoterica di mio pia ma aveva un impianto prima non c'è più però ormai come se la vista fosse rimasta affaticata è un impianto che agiva proprio sugli occhi in mezzo dove c'è il chiasma qui sopra tensione agli arti inferiori aspetta arriva perché non ha più se l'impianto non c'è più no decisione arti inferiori è come se riuscissero a provocargli un blocco alle gambe quasi come se fossero gambe artificiali no quando ci sono delle protesi non so se è presente come funzionano che hanno hanno un meccanismo che fa sì che si possano piegare o rimanere dritte no quelle più basiche ecco come se è come se le sue gambe rimanessero rigide così e quindi quando poi lui se ne accorge e lascia andare come se aprisse il meccanismo e i muscoli si rilassano contrazioni muscolari il volontario sì sono provocati dall'entità mentale di livello 5 anche anche la rigidità che ho appena spiegato e la collegata all'entità mentale di livello 5 è un ulteriore modo per tenerlo fermo agire proprio sull'apparato muscolo scheletrico sì proprio quanto gli danno questi quando gli manda questi micro movimenti e per cercare di diciamo infiammare un po la parte muscolare in maniera tale che lui non possa c'è che si che si esca muovere più faticosamente acufeni sì quell'impianto mentale che ha in mezzo in verticale agisce anche sul sull'udito quindi quando lui vuole quando l'entità mentale vuole far sì che si separi un po dalla situazione no quindi che non gli sia chiara e che l'energia le vibrazioni siano più basse manda degli impulsi e sull'emisfero destro quindi anche sull'orecchio destro è la parte dove vengono mandati più gli impulsi e quindi le vibrazioni tendono sempre essere più basse rispetto alla parte sinistra i problemi intestinali no no non vedo una casa una causa esoterica emorroidi no stessa cosa vedo più una causa proprio emotiva di come lui si relaziona con il mondo ecco sia a livello intestinale che per le emorroidi ok vediamo che cosa succede visto che ha ritrattato il fatto che sente una divisione cerebrale quando ascolta quei video asmr con delle frequenze speciali sì allora vedo che come se da dietro cioè quando sente questi audio e come se entrassero passando da dietro alla testa no e poi da dietro vengono mandati gli impulsi ma divisi ok sì tutto qui sì e questo è che stavo guardando è la stessa e da quel momento lì che è stato messo questo impianto mentale per far sì che lui possa evolvere poco nel senso è un buon strumento per abbassare l'evoluzione e la consapevolezza delle persone perché l'ideale sarebbe che i due emisferi lavorassero perfettamente complementari no all'unisono ok invece in questa maniera separa proprio il lavoro dei due emisferi e quello creativo tiene viene tenuto un po a bada in maniera tale che lui non possa fare una grossa evoluzione va bene causa esoterica dell'energia maschile debole che lui attribuisce al padre si allora si può essere attribuita al padre ma non tanto al padre c'è la causa indiretta nel senso che a causa di quello che il padre faceva con loro a lui ha sviluppato una aspetta di me lo ripeti perché non si è sentito lo ha sviluppato una maggiore sensibilità quindi una parte più femminile direi vedo proprio che c'è il padre violento ok lui che per sfuggire da questa situazione diciamo per allontanarsi dal padre ha cercato di essere più affine al ma la mamma sorella non so se è una sorella vede un'altra figura femminile no una sì sì ok quindi ha cercato di essere più affine a loro per potersi unire a loro ok e quindi ha sviluppato questa parte più femminile rispetto con l'anzi quella maschile la la molto bloccata e chiusa e quindi vedo proprio questo processo qua ok a perché abbiamo il padre padre ed il nonno materno sì il padre è arrivato scocciato arrabbiato e quasi come se non volesse essere disturbato perché vuole rimanere nella sua rabbia ciao allora lo salutiamo vuole una vick no me l'ha buttata via lo salutiamo allora non possiamo interferire nessuno come fare le le mosse nella nessuno ognuno ha diritto di farsi le sue esperienze come vuole non da via è la prima volta che se ne avevano un genio intanto mauro ride per non piangere e nonno materno ma ho detto abbastanza alto ma grossaggio lo vedo dove di magro e saggio no sì lo vedo magro alto saggio nel senso una persona molto riflessiva lo vedo che sa tante cose infatti ha guardato la scena del padre in maniera molto c'è maniera senza senza reazioni estreme no quindi ha visto sapendo il soggetto ha visto ea quasi come per dire ma anche qua c'è la sua cosa era anche qui hai fatto questa scena ok ma senza essere stupito o senza reagire in maniera emotiva troppo forte no ecco quindi lo vedo molto pacato lo vedo che era quello che sosteneva un po a livello emotivo le altre persone vediamo una ricca diamo una ricca anche a lui adesso con la ricca ha visto mauro ha visto come funziona tutto è nato la molto entusiasta e che ha detto e gli dice ciao mauro che bello vederti adesso è tempo che tu esca dal cuscio ma cosa vuole fare il nonno andare a portare aureo allora ce lo mandiamo lo invidiamo insieme a tutti i parenti che vogliono presentarsi di mauro di tutte le generazioni 86 ok vi salutiamo tutti e allora lo chiediamo se chiuso va bene ma torniamo allora su mauro causa esoterica della sua tendenza allo stare in difesa un po è questa sua parte femminile femminile accentuata che quindi un po questa cosa è un po il fatto che pensa di non essere all'altezza neanche di prendere decisioni ecco quando è il momento di decidere si vede un po confuso e quindi aspetta di essere trascinato da dalle situazioni l'entità mentale di livello 3 tendenza ad avere una volontà un po alto allenante sì 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 l'entità mentale di livello 3 vedo anche un po quella di livello 5 nel senso che questa cosa che è sempre che deve rimanere chiuso in questo guscio fa sì che lui desista anche dal dall agire no perché non sa come sono le esperienze non facendo le sì è un po proprio come c'è non si sente non si sente sicuro c'è come se le esperienze fuori non potendole fare perché è bloccato è come se poi alla fine facesse sempre le stesse esperienze perché sono quelle che sa fare quelle fuori le fasse viene trascinato se viene portato a no con po sono sì 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 una bella strutturata ma evitamentali quindi se 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 tutte e due non si lascia andare non si lascia andare cerca di comunicare atteggiarsi con gli altri in maniera strutturata come se la pensasse prima perché appunto è insicuro quindi ha paura di fare figure ha paura di non essere all'altezza ha paura di dire le cose sbagliate ha paura di agire tutto sbagliato no quindi se l'imposta per come se si impostasse prima vedo i discorsi o le situazioni ecco c'è in eterico mi appare che crea la situazione anche due tre giorni prima in eterico e poi deve essere così perché se non riesce a fare questo non entra in relazione col mondo esterno proprio ecco non si dà la possibilità di sbagliare perché sarebbe troppo lui è il suo peggior nemico diciamo che anche questa affermazione fa parte dell'essere di sentirsi non all'altezza no quindi è tutto negativo lui non è capace quindi due super giorni amico e quindi diciamo questa vittima di se stesso nel senso che peggio di così c'è tutto ciò che faccio io peggio va male e quindi lascio che faccia il mondo io seguono fantasticheria se si fa parte anche questo di questo guscio come se nel guscio non riuscisse non potendo fare spesi niente fuori se le se l'immagina e le crea come meglio li vengono ci sono un sacco di sogni vediamo in alcuni il sogno prima di scendere nella matrix io li vedo che ha visto un abduction l'altra persona che lui ha visto scendere in un buco nero era un'altra persona che era in un abduction la sua ps l'ha fatto svegliare sono riusciti a come vedo ogni tanto sono riusciti diciamo queste interferenze sono riuscite a fargli apparire una uno scenario piacevole maniera tale che non si accorgesse di essere in un abduction ok quindi quando poi è tornato diciamo al dove era prima noi è tornato pensando di scendere nella matrix la notte invece realtà era a fine di un abduction ok sembra il film matrix combattimento contro macchine e poi arriva la parola bellero font bellero fonte che è poi tutto il discorso mito pegaso chimera sì sì questa è un'altra un'altra abduction dove però la sua ps è riuscita si è svegliato mentre lui si è svegliato ha visto mentre lui ha visto un posto e questi qua si sono accorti quindi gli ha combattuti in realtà no però cercano di fare sempre la stessa cosa no di fargli credere un'altra cosa da quella che vedo però che questa hanno utilizzato diciamo per creare una scena fittizia la sua interesse su grande interesse per la mitologia no quindi io la vedo poi è collegata alla mantide alla mantide che lo interferisce ok e prende un po anche questa matite l'energia dal secondo universo quindi fatto che gli sia arrivata la parola che ci sia questo combattimento e diciamo una scena fittizia che gli hanno fatto vedere anche qua per cercare di depistare la sua attenzione dalla d'action insomma quante sono l'abduction dieci al mese circa come si chiama il progetto fantascienza vedo che gli fanno vedere tutte queste scene di fantasia le fantastiche riano sì le fantastiche rie e proprio un e lo vedo collegato a questa però vedo è proprio un post tipo un appunto una base ok spaziale dove fanno queste abduction e creano come se fossero delle teleogrammi delle scene ologrammi ok dove le persone sono collegate con la mente e mentre queste persone mentre sono collegate con la mente loro prendono l'energia ok statua leonessa lei più o meno ha visto ha visto l'interferenza ma nel momento in cui ha visto l'interferenza gli hanno creato nuovamente questa questa scena olografica che è tornata infatti poi lui ha detto cioè si è accorto di aver sbagliato no mi sembra che diceva che si è avvicinato con la mano e poi ha detto ma che cavolata ho fatto no perché ha visto ha visto leone leonide interferenza no poi li hanno creato l'ho creato l'immagine olografica lui si è fatto prendere dall'immagine olografica e dopo si è accorto che aveva fatto diciamo si è avvicinato all'interferenza ancora di più ma lui ha un leonide nelle interferenze mi sembra di no 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 solitamente quando si vede un leone si sogna si vede si pensa di vederlo nella realtà no normalmente di recente c'è successo si è interferiti da dei leoni se di solito si si spera come se vedo qua che sono questo come se lui avesse visto il progetto mentre era lì c'è in abduction ok quindi è come se avesse visto un'altra interferenza un'altra interferenza che era che lavora tra virgolette nel progetto no quindi su questa base spaziale è quello è stato un tentativo si di interferenza dopo che lui si è accorto ok però ce ne sono tante e lui ne ha vista una ma non era la non era interferito da quella no 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 ok macchine dna che era quella legata alle 35 canali 2 trans umane non mi ricordo se mi sembra di sé ma fatti se si qua ok lezioni in aula allora mentre prima parlava erano chiari erano chiare le abduction che erano i primi che ha detto poi la lezione in aula ho visto che lui ha visualizza visualizzato come un meccanismo con cui alcune ps diciamo in eterico gli sono a parte apparse alcune ps come imparano le cose nel senso la sua visualizzazione di come le ps consapevolizzano quindi evolvono ma è la visualizzato e ho visto che lui infatti quello che io ho pensato è che volendo potrebbe fare una un ipnosi diretta perché ho visto proprio che vede delle cose chiare e questa è stata una di quelle quindi tentano di bloccarlo in tal senso sì esatto se sogno lup forse non ce l'ha descritto non vediamolo mi viene allora quello che vedo io e lui che vedo lui che continua a girare tipo in un vortice e non riesce a uscire dal vortice e come allora un po quello che vedo io come se arrivasse da un posto vede questa spirale entra in una spirale e non riesce più a uscire questa immagine mi è arrivata comunque sempre è come se lui riuscisse a svegliarsi prima durante o all'inizio durante e abduction ma con queste immagini olografiche riescono a fregarlo sempre quindi poi lo incastrano e fanno quello che devono fare prete violenze no lì è riuscito invece ok lui era chiaro una fatti lì è riuscito infatti ha distrutto tutto quello che ha trovato l'ha fatto che saliva era proprio mentre lo portavano via all'inizio dell'abduction ok però si è svegliato ha distrutto tutto ok sono arrivati sono arrivati queste interferenze con l'immagine di figure cristiane ok col tentativo di ammaliarlo con questa cosa e lui è stato chiaro e gli ha detto tu mi stai facendo del male una cosa che mi hai fatto delle violenze una cosa del genere e poi una volta che è riuscito a diciamo eliminarli poi si è svegliato infatti è finita l'abduction lì è riuscito proprio a bloccarla non mi hanno fatto niente sarebbe partito un'interferenza legata alla religione cristiana ok matrimonio ma non mi ricordo ce l'ha raccontato matrimonio non mi ricordo quello che vedo però anche allora vedo lui come se andasse a sposarsi no quindi è quasi lo vedo quasi davanti ma dovete penso sia un tipo un sindaco non è una chiesa è tipo un comune no allora vedo lui e lei quasi lì a sposarsi poi un certo punto lei si gira e allora quello che vedo qua tipo un insettoide ok e lui fa così vedo che ha tipo una una spada invisibile ok come se tagliasse lo spazio tra lui e lei e questa cosa scompare ma chi è questo un insettoide super l'amantica e se come si chiama il progetto di mauro fantascienza assisi scusami va bene ci sono d'action si ci sono attacchi notturni si ce li ha descritti se questi qua se 10 al mese più o meno chiamiamola soffia ma se c'è non c'è ma il motivo è chiaro perché nella sua mente c'è in quello che lui vorrebbe talmente generico che non c'è non c'è c'è totalmente tante le opzioni che non questo momento la fiamma non può esserci ma è possibile che ci sia è possibile si può creare ma sì 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 è solo sentire dentro un lungo lavoro di consapevolezza e di sentire dentro molto chiaro che cosa si vuole dall'altra persona ma quella è la fiamma c'è un lungo lavoro diciamo ma ora adesso in poi si chiama il suo bambino interiore che vabbè dire tutto e niente vuol dire la sua parte subliminale la sua parte eterica il suo vero se ne chiamiamo il bambino interiore vediamo chi arriva arrivato un bimbo con i pantaloncini corti che bretelle ok però ai capelli lunghi con le treccine come una bimba come una bimba come una bimba si un bambino come la bimba una bambina è un bambino perché sì è lui con un forte aspetto femminile direi che quasi più la mente da femminile c'è la corpo maschile e invece la parte spirituale animica femminile l'animica e femminile però il femminile 39 per cento 40 per cento questo momento che agiva sì 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 poi dopo lui come se quello che diciamo che le sue interferenze fanno sì che agisca più la parte razionale la parte mentale ok per bloccare la sua la parte la sua vera parte di sé il suo vero se lo vedo molto infatti tutto anche a livello cerebrale tutta la parte creativa e bloccata la parte emotiva è bloccata tutta quella parte lì che invece farebbe sì che lui riuscisse a vivere serenamente nel mondo parte istintiva vedo proprio che è proprio bloccata ma anche manca quella parte lì va bene cosa vuole fare mauo andare al cluster andiamoci sì 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 ci sta andando a per portare il definitivo cosa fa prende tutti i contratti ma rispetto al solito in effetti ne vede un po meno sono proprio solo allora ce n'è uno per vita e poi ce n'è qualcuno in più è come se si fossero creati altri contratti nuovi dall'ultima sessione che ha fatto vedo proprio questa cosa rispetto al solito che più o meno tutte le vite hanno totta hanno un po di contratti qua vedo alcune vite che hanno solo contratto della vita senza altre esperienze aggiuntive in quella vita lì ecco e altre invece ci vanno che tipo di contratti nuovi ha messo e perché non è riuscito allora vedo che invece tutta la parte delle entità mentali che agiscono e quello che fassi tutte le volte ecco questo il meccanismo che direi quasi sicuramente che quello che fa ricreare le interferenze quando uno è pulito è proprio l'azione delle entità mentali quindi lì non sono proprio stato tolte e quando vengono tolte c'è il pericolo del ricordo no che se ti agganci troppo i ricordi l'entità mentali possono approfittare di quelle vibrazioni e tornare a memoria sì va bene avatar come lo vedi non lo vedo intenta cercare di non fare eliminare di far tornare questo meccanismo identità mentali abbiamo ritirato gli uomini energia da l'abbracciare relativo avatar di tutte quelle persone che non vogliono questo aiuto è un check vedi un po se qualcuno che conosci l'ha ritirato pure no se no proprio stupidi sono a questi se troppa tra mano troppa paura via via anche quello così siamo sicuri che non si muove troppa paura di di evolvere eh sì di evolversi di scoprire informazioni di avere un'accelerazione sia che una ps voglia rallentarsi in questo modo ma c'è quella allora vedo una tanta interferenza di paura grossa che mantiene tutto di fatto ma brutto cosa la paura questo lavoro si può fare solo se non si ha paura per esempio se io avessi anche solo un briciolo di paura da sotto il tavolo a dire c'è rettiliano che mi sta cercando invece sbatterse nelle balle non dire parola c'è lena che è diventato una maglietta quanti ne ho dalle ce le bella la facciamo quante quante ne ho dette così vedete quando oggi c'è sacco di parolaccio sempre anche prima della registrazione dovete sapere che elena ha un passato da scaricatrice di porto porta le cassette le cassette di frutta e sbatterse nelle balle ma sì lo dico anche no sbatterse nei e allora la sia paura magari bisogna anche allenarsi per esempio non lo so c'è una cosa di dicevole da fare in pubblico è una la fa lo stesso esatto c'è c'è una roba da dire in pubblico dicevole non bisogna dirlo bisogna dirlo e passi in mezzo i tuoi amici tu la dici lo stesso e tutti si vergognano perché hanno paura della convenzione sociale del disprezzo magari c'è un gruppo di suore no e tu ti reggi un bel bestemmione fa è invece tanto bello perché perché bisogna approfittare di questo gioco no anche tu me lo dici sempre anche la monica bisogna giocarlo un gioco solo un gioco e no paura e chissà cosa pensa la gente bestemmione davanti al sole no è un rottone in pubblico no invece un rottone in pubblico problema loro non tanto bene e liberatorio un barottone in pubblico e tutti e noi invece si fa con la bocca chi se ne frega tutti di tutti che si stacchino dal proprio uomo energia quelli che non vogliono essere aiutati e che sicuramente hanno anche paura o solo ma ognuno il mondo è dei coraggiosi non le pecorelle con la corazza la corazza e le pecorelle vanno nel mondo dei gamberi che tornano indietro gamberi tornano indietro si i fighi vanno avanti senza coraggio sa nudi anche tu anche tu modi con loro con la loro fierezza la loro forza onestà trasparenza limpidezza va bene un'altra bella lezione cina da bambino bravo da data mauro con queste nuove condizioni non c'è più niente una fantascienza non c'è più no le abduction se mauro dicesse io paura adesso torneranno le abduction tornano sì perché mentre dice ho paura visualizza quello che gli faceva paura e quindi riaggancia quindi se uno ha avuto delle abduction e poi le riscontra di nuovo significa che non è uscito da un cambiamento che doveva fare no allora lì può essere che non è che sono l'entità che cercano di fregarlo di nuovo ok e quindi o ci casca e quindi ha paura e quindi gliele rifanno e rientra nel meccanismo che dice vedi sono tornata oppure dice no qua non avete capito voi con me non potete fare niente via siete solo delle interferenze che io non voglio e le puoi mandare via ecco quindi ok nuova frequenza 107 miliardi qualcosa di più va bene erano 16 e 10 volte tanto no qualcosa di più sto facendo vedere che può alzarle e può mettere ad eterno si può mettersi 5 d'eterno il corpo fisico mentale emozionale eterico subliminale ok resta alzando in eterico 150 ok 216 costante cioè che devono sbagliare costanti andando un pochino so bene deve arrivare a un livello che poi resta costante ma se queste condizioni e non miomba giù finita la sessione come quando non lo so si conoscono le fiamme e così via toccano noi ok 238 nuova consapevolezza era 195 consapevolezza era 195 25 125 tanti non mi sembra che adesso è 195 avessi letto le pensi e gli sp e la mia scrittura non buona a volte prevede delle cose 64 36 ok praticamente invertite vite precedenti 1231 cervello adesso con condizioni di adesso e 9.9 ottimo mozza diciamo 10 ok a messaggio finale di mauro a se stesso molto categorica la psdc togli la mente togli la quindi proprio fare tutto con l'intuito e quello che senti dentro appena arriva un dubbio un pensiero che dice ma se quella è un'interferenza che è da togliere soprattutto deve stare molto attente deve fare molto attento nel senso prestare molta attenzione a questa cosa da adesso per un po proprio come allenamento per mantenere c'è ne costano una cosa che ci fosse qualcuno che faceva un rumore una cosa così no io ho fatto un colmettino di tosse però no si no però si sente severo ok proprio mantenere questa attenzione sul usare la sua il suo intuito la sua spontaneità buttarsi a fare le cose c'è chi viene qua come dicevi tu prima no ti viene in mente di far qualcosa provare a farla così distinto farla senza pensarci su ma andare e allenarsi tirare sulle vibrazioni deve tirare sulle vibrazioni tanto c'è tenerle alte sempre come allora lo vedo mentre passeggia in posti silenziosi non mi non deve essere per forza natura diceva sarebbe l'ideale però importante che lui cammini tipo una camminata regolare ok e mentre cammina immagina proprio che ogni passo le vibrazioni si alzano visualizzare tanto riesce quello riesce a fare anche allenarsi anche a visualizzare ok quindi si salita proprio che le vibrazioni si alzano si alzano si alzano mentre cammina ogni passo regolare questa cosa qua è un'altra cosa che può fare è quando bisogno di una risposta ok mi fa vedere questa cosa con la ps visto che lui riesce a visualizzare quando ha bisogno di una risposta che deve arrivare dall'interno si immagina di entrare e leggere la frase mi dice proprio fa leggere la frase che c'è all'interno quella è la risposta ok ok questo è il messaggio quindi sì come lo vedi la vedo lui che ruota in aria azzurro con un'energia azzurra ok e con tipo una bacchetta in mano mentre gira fa girare queste energie azzurra a un po di fatina questa cosa la fatina azzurra la fatina turchina un po va bene chiudiamo con i dotati di palle sulla faccia della terra quanti sono quanti si sono tenuti uomo energia attaccato all'avatar quanti quindi di conseguenza si sono staccati i cazzuti quanti sono le mammolette quando il cazzo ti sono 15 per cento ma dice parolacce 15 per cento non è vero ma ci facciamo staccati tutti quasi e l'85 se le mammolette se più o meno c'è chi più chi mauro mauro no mauro no non ce l'aveva attaccato sì però mai ha fatto il lavoro ha certo se si fatti se si va bene abbiamo finito gli sconetti ti elena da tutto e tutti dimmi quando sei pronta e quando lo sei ti conto da 15 così torna il tempo presente dal quale ti sto parlando ok 1 2 3 4 5 apri gli occhi come stai elena ciao maura attiva bravo perfetto no 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 stai toccato 300 volte quando lo no no ma con la ma no hai fatto un discorso con la cam che non so cosa sia ok forse è il microfono è sotto il microfono ecco tutti avete sbagliato microfono siamo ancora registrando vuoi dire brevemente qualcosa e beh grandissimi ecco questo sì senso alcune cose mi sono tornate in pieno ad esempio il fatto di di essere rinchiuso perché da qualche parte me l'hanno scritto di sentirmi rinchiuso disse quindi sentirmi bloccato ecco e il fatto di mio nonno ecco quello sì perché l'ho sempre visto come quella persona maschile che non ho mai avuto per questioni perché per questioni di lingua perché mio nonno materno è olandese e e dopo diciamo un bel insegnamento perché con tutto quello che mi ha detto la ps di togli la mente categorica categorica proprio c'è molto severa sì no come giusto credere e poi quella cosa di odino mi ha un po colpito perché così mi ha fatto pensare che oggi sulle immagini sai che ogni tanto ma la mente ti fa vedere delle immagini di uomini di cose e vedendo la casa mia ogni tanto mi capita di vedere un vichingo nel 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 disegno diciamo della montagna ok che si è un attimo spaventato il disegno c'è sulla montagna di ombre di esatto giochi di ombre la montagna e albero tutto quanto ha detto ma caldo quello che sembra un vichingo questo anche abbastanza colpito quando si è parlato di una sessione diretta tu hai fatto il test sei in grado di andare in ipnosi anche no non riesco anche perché poi appunto in quei momenti li sento anche le la mente e le tensioni e le tensioni prova magari a farlo qualche ora vediamo vediamo se succede qualcosa una passeggiata per alzare la ovviamente non adesso bravissimo non adesso tra due mesi ok i cambiamenti ci fai sapere ci scrivi anzi lo dico nella registrazione lo dovete fare appunto sempre tutti magari tra due mesi hai qualche piccola briciola che vuoi ancora sondare valuta il percorso in maniera una cosa che ci avevo pensato vedere le cose da soli serva io penso mi divertirei un mondo la sessione di oggi vedendola tu perché ovviamente tu credi a queste cose ma nel momento in cui le vedi è un altro paio di mani è tutta un'altra roba ma questo è sicuro c'è una cosa che molto più forte molto più viva molto più che ti imprime di più va bene chiudo la registrazione è stato ancora un attimo in linea ciao 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 ciao